Allora, ben trovati, oggi continuiamo il percorso che abbiamo cominciato ieri insieme al nostro ospite il dottor Carmelo Ferlito dell'Università Wollongong e Carmelo ieri ha illustrato molto bene quali sono le implicazioni dell'approccio austriaco, in particolar modo della teoria di Hayek, circa l'inefficacia della politica fiscale e ha lasciato aperto l'aspetto, se volete, più micro di questo ragionamento che riguarda il modo in cui all'interno del mondo economico le conoscenze vengono in qualche modo a creare degli effetti sulla capacità del decisore pubblico di intervenire nel modo più opportuno. Oggi la lezione di Carmelo continuerà questo ragionamento entrando più nel merito del contributo degli studiosi austriaci circa il ruolo della conoscenza e circa il modo in cui possiamo definire razionale un comportamento del decisore pubblico come anche degli operatori privati. Il tutto ci aiuterà all'interno del nostro corso a fare ancora maggiore luce sull'azione del decisore pubblico alla luce dei reali meccanismi di funzionamento delle organizzazioni complesse per tener conto dell'effettiva difficoltà che si ha quando si ragiona in termini di politica economica e non ci si vuole limitare ai macro aggregati. Lascio subito la parola quindi a Carmelo e vengo insieme a voi ad ascoltarvi. Grazie, grazie Stefano, grazie a voi per essere qui ancora più numerosi di ieri perché oggi tocchiamo un tema che mi sta particolarmente a cuore che è quello della conoscenza e della razionalità e come le dinamiche della conoscenza e della razionalità vadano a impattare con l'intervento pubblico in economia, la pianificazione o il socialismo inteso in un senso più ampio da com'è comunemente inteso e come andrò a definire tra breve. Allora, qui come al solito vi ho riportato della bibliografia di riferimento che è molto ampia come potete vedere, tra questi testi io ve ne consiglio alcuni, in italiano questo libro di Gesù Suerta De Soto che è ancora disponibile credo, perché Gesù Suerta De Soto ha la caratteristica e la capacità di sintetizzare i dibattiti e le tematiche in modo molto didattico, per cui il libro è impegnativo, c'è 400 pagine, però è anche vero che è una guida al lettore passo passo verso la comprensione del fenomeno in esame. Sul tema specifico di oggi, poi vi consiglio, penso che se siete spriti di economia leggiate tutti in inglese, quindi non abbiate problemi, il primo dei due libri di Don Lavoie è River and Central Planning, perché è il libro che storicamente ha ridisegnato lo stato del dibattito riguardo al tema che andremo a trattare quest'oggi. In ultima analisi, il libro che ho menzionato ieri di Odrisco Lerizzo, L'economia del tempo e dell'ignoranza, che è il libro che, come dicevo, mi ha cambiato la vita come studioso di economia e mi ha fatto cambiare radicalmente paradigma. Poi, ovviamente, ci sono un'altra serie di testi, se qualcuno desse intenzione di leggerli, molti di essi sono disponibili gratuitamente online o comunque nel mio hard disk, per cui eventualmente contattatemi. Qual è il problema che andremo a definire oggi? Ieri abbiamo affrontato le criticità che riguardano le politiche di intervento da parte del governo e gli effetti negativi legati alla crescita economica. Quindi abbiamo toccato difficoltà di natura pratica, cioè quali problemi un tipo di intervento del governo crea e come l'intervento governativo, pur nascendo con buone intenzioni, di fatto porta alle distorsioni nel sistema economico che vanno a creare un effetto, una situazione peggiore di quella che si voleva curare. Oggi, invece, ci muoveremo su un piano diverso, un piano molto più teorico. legato appunto alla dinamica della conoscenza e attraverso le considerazioni che svolgeremo oggi dovremo riuscire a dimostrare come ogni tipo di intervento economico, indipendentemente dal grado, dalla misura dell'intervento, sia razionalmente e ontologicamente destinato a fallire. Cioè, il socialismo, l'intervento e la pianificazione presentano non solo delle contraddizioni di natura pratica, ma innanzitutto presentano una contraddizione di tipo ontologico, cioè intrinseca alla natura stessa, alla propria natura, che li rende destinati al fallimento. E quindi, la domanda che in fondo molti economisti hanno cominciato a farsi, in particolare a partire dall'avvento dell'esperimento sovietico, che come voi sapete, di cui quest'anno ricorre il centenario, la prima rivoluzione del 1917, è può una società socialista, cioè pianificata, funzionare razionalmente? Come molti economisti di oggi direbbero, se esistono dei fallimenti del mercato, se il mercato non funziona nel modo ottimale, cosa peraltro alla quale io non credo, se abbiamo tempo, vi spiegherò perché, ma se il mercato presenta delle problematicità, possono essere superate dalla pianificazione? Può un organo centrale, sia esso una persona, una dittatura o un comitato, come nell'esempio sovietico, sostituirsi ai meccanismi precipi del mercato e ottenere un risultato migliore? Questo è quello che viene normalmente chiamato dibattito sul calcolo economico socialista e che inizia attorno al 1920, ma che era stato preceduto da alcune analisi differenti. Anzitutto vi consiglio un libretto di un economista austriaco, che fu anche ministro delle finanze, Eugen von Benbawerk, che forse è famoso più per la sua teoria del capitale e per essere stato il maestro di Schumpeter, ma nel 1896 pubblica un libro, La conclusione del sistema marxiano, tradotto in italiano e disponibile in un'edizione Etas del 2002, in cui affronta alcune contraddizioni interne all'analisi di Marx, prima di tutto. Poi abbiamo il ruolo di due economisti italiani, Pareto e Barone, che probabilmente avete sentito nominare nei corsi di microeconomia, il famoso ottimo paretiano e Barone per l'economia del welfare, che hanno cercato di dimostrare come attraverso un sistema di equazioni possa essere risolvibile il problema della pianificazione in una società socialista, il problema del calcolo economico. Però due economisti austriaci, Mises e Hayek, si scagliarono contro questo tipo di analisi da prima Mises con un articolo del 1920 e poi Hayek a partire da alcuni saggi del 1935, cercando di dimostrare come il problema non sia in fondo neanche quello di risolvere un sistema di equazioni, perché se il problema è solo matematico basta disporre degli strumenti tecnici adeguati per risolvere il problema e quindi alcuni dei cosiddetti socialisti di mercato o altri pianificatori dicevano si tratta semplicemente di avere dei computer abbastanza potenti per risolvere grossi problemi di calcolo. Ma la natura della critica di Mises e Hayek è su un altro livello, dicono il problema è che queste equazioni non possono nemmeno essere determinate e vedremo perché essi sostengono questo tipo di posizione. Nell'ambito del dibattito è curiosa la posizione di un economista molto famoso, anche egli austriaco, ma non appartenente alla scuola austriaca, Joseph Schumpeter, che mi è molto caro, che pur essendo un economista sostenitore del libero mercato, ma avendo la passione di lanciare delle affermazioni che fossero in grado di stupire il proprio uditorio, nel 1942 in un libro intitolato Capitalismo, Socialismo e Democrazia dice che è ormai evidente che il socialismo può funzionare benissimo e l'unico a sostenere il contrario è rimasto il professor Mises, col quale avevano una disputa legata anche agli incarichi accademici, quindi cose che non sono nuove ed esclusive dell'ambiente accademico contemporaneo, ma che ci sono sempre state. Iniziamo con una serie di definizioni. Per sostenere la tesi che vogliamo sviluppare in questo seminario, dobbiamo definire il socialismo come un qualsiasi sistema di aggressione istituzionale contro il libero esercizio dell'azione umana, altrimenti detta imprenditorialità. Quindi con socialismo noi non intendiamo semplicemente un controllo totale dei mesi di produzione o una cancellazione dei meccanismi tipici del libero mercato, ma un qualsiasi ostacolo che un'autorità anteponga alla libera azione individuale. Quindi in un qualche modo ogni tentativo di manovra cosiddetta redistributiva è socialista. Quindi stiamo parlando di una definizione molto più ampia di quanto non sia tradizionalmente intesa. Possiamo dire che ogni tipo di intervento pubblico, essendo naturalmente distorsivo di quella che sarebbe l'azione individuale senza l'intervento governativo, rientra nella ampia categoria di intervento di natura socialista. È chiaro? Chiaro per tutti? Bene. Che cos'è invece l'imprenditorialità che per un certo filone della scuola austriaca va assolutamente identificata con la più generale categoria di azione umana? Infatti possiamo definire l'imprenditorialità come la stessa azione umana. Quindi la funzione imprenditoriale è esercitata da qualsiasi persona che agisce per modificare il presente e raggiungere i propri obiettivi nel futuro. Cioè, voi siete qui oggi a lezione ad ascoltare me invece che essere al wasabi sushi kaiten teppanyaki all'altro lato della strada, giusto? Quindi stamattina, quando vi siete alzati in modo più o meno consapevole e più o meno sopraffatti dal senso di sonno che vi attanagliava, avete deciso di venire qui invece che andare al wasabi sushi, giusto? L'avete fatto, mi auguro, con un motivo. Come? Perché ha chiuso il wasabi. Questo è già un motivo, cioè l'alternativa che in un qualche modo aveva una pil maggiore, andare dal wasabi sushi invece che venire a sentire questa noiosissima lezione, viene automaticamente eliminata per il fatto che il wasabi sushi è chiuso e quindi non potendo stare a bighellonare in mezzo alla strada, siete venuti a lezione e quantomeno potreste beneficiare del fatto di passare l'esame, che in un qualche modo è legato al più generale vostro obiettivo di laurearvi. Voi venite all'università per laurearvi, immagino, a meno che non ci sia qualcuno che ha del tempo libero e non sa cos'altro fare, ma penso che voi state tutti qua per laurearvi, giusto? Quindi voi non venite qui senza uno scopo. Quindi, come è scritto qui, la vostra azione umana è finalistica, giusto? E da che cosa è data la finalità della vostra azione umana? e delle aspettative. Cioè, voi perché volete laurearvi? Lei con la barba davanti, perché si vuole laureare? Beh, per poi trovare un lavoro facilmente e avere una maggior conoscenza. Possibilmente lei vuole trovare un lavoro migliore di quello che si aspetta di trovare con il suo diploma di scuola superiore. Coltiva questa pia illusione, in fondo, giusto? Quindi questa pia illusione viene definita scientificamente come aspettativa. E io con questo so che ci sono temi che tratterete nel futuro. Non ho nessun tipo di passione per i temi delle aspettative razionali, piuttosto che delle aspettative adattive. E queste definizioni che di solito gli economisti neoclassici associano alle aspettative. L'economia ha a che fare con l'azione umana individuale e quotidiana, in un qualche modo. Quindi non c'è bisogno di appoggiare delle etichette alle categorie di aspettative. È evidente che, come cantavano i Blu Vertigo, senza un'idea non ci si può alzare dal letto. Giusto? C'è qualcuno di voi che si ricorda questa band elettro-rock degli anni 90? No, assolutamente. Però forse avete visto Morgan a X-Factor. Morgan era il cantante di una band chiamata Blu Vertigo, che era tra le mie band favorite quando avevo la vostra età. E quando lui canta, senza un'idea non ci si alza dal letto, intende proprio questa cosa qui. Voi la mattina prendete una decisione consapevole, che è quella di fare colazione e venire all'università, che è dettata da un fine che volete raggiungere, che a sua volta è determinato dalle aspettative. Se voi siete qua per laurearvi, senza attendervi, magari sbagliando, o io, come mi auguro, avendo l'intuizione giusta, che avere questo titolo di studio vi porti un beneficio che può essere di varia natura, può essere un beneficio in termini lavorativi o comunque un beneficio in termini intellettuali, non è necessario che sia strettamente legato a un miglior lavoro, ma è comunque un beneficio che vi attendete, non avrebbe senso per voi venire all'università, sareste delle macchine programmate per venire qui senza l'esercizio della vostra libertà, giusto? Ma c'è una cosa fondamentale che vi distingue dalle macchine, che è quella della consapevolezza, della libertà, cioè il fatto che decidete di venire qui al mattino liberamente. Giusto, non credo che abbiate genitori con la frusta a casa, lei non ha genitori con la frusta, no, bene o male. Quindi, in un qualche modo, l'imprenditorialità, definita come azione umana, ha a che fare con la definizione di fini e l'individuazione dei mezzi. Questo è un punto cruciale che mette in discussione ciò che avete studiato nei vostri manuali di microeconomia. E quindi facciamo un po' di critica della teoria dominante, così per suscitare il vostro senso critico. Voi, penso, abbiate studiato tutti la definizione di Robbins, secondo cui la scienza economica ha a che fare con l'allocazione di risorse scarse per ben determinati fini in concorrenza tra di loro. Giusto? È una definizione che vi suona familiare? Però pensate al grande limite che ha questa definizione. In questa definizione, il processo di individuazione dei fini, di scoperta dei fini e di scelta dei mezzi, di scoperta dei mezzi, è completamente lasciato fuori. Perché fini e mezzi appartengono ad un paniere definito, i famosi dati. Ma vi faccio un esempio molto semplice. A qualcuno di voi è capitato di innamorarsi qui all'università? O siete arrivati già qua tutti con l'amorosa delle superiori e siete insieme da quando avevate 15 anni e vi sposerete e starete insieme tutta la vita? C'è qualcuno che si è innamorato qua all'università? Loro due? Maglietta blu e... No! Va bene, cioè non è mica sbagliato, lei non è innamorato. Ha una ragazza di cui non è innamorato. Poverina, la fa soffrire se dice che siete insieme e siete esseri innamorati. Questo è solo per dire che evidentemente se un processo di innamoramento avviene a lezione, questo non avviene. e questo non avviene in base a una scelta premeditata. Cioè vado all'università di Bergamo oggi e vediamo se mi innamoro. Questo nell'ambito dei fini del paniere e sceglierò uno dei mezzi, non lo so, mettere un certo profumo per attirare una ragazza. L'esempio dell'innamoramento mi sta molto a cuore perché è forse l'esempio più clamoroso che vi fa individuare come i fini non siano scelti nell'ambito di un paniere predeterminato, ma in un qualche modo siano il frutto di un processo di scoperta. Cioè voi non vi innamorate aprioristicamente, vi innamorate solo nel momento in cui incontrate una persona che corrisponde al vostro desiderio o quantomeno intuitivamente percepite che quella persona possa corrispondere al vostro desiderio e questo innesca un meccanismo di scoperta che può portare alla conferma o alla revisione della vostra intuizione iniziale. Giusto? Cioè nel momento in cui vi innamorate, allora che è una scoperta, scatta il processo di selezione dei mezzi. Sono innamorato di questa persona perché a lezione mi ha parlato in un certo modo e quindi l'ho scoperta come corrispondente al mio desiderio. Cosa faccio? Prima cosa tenterete di invitarla fuori. Giusto? Non le mandate Whatsapp. O quantomeno le mandate Whatsapp per invitarla fuori, se siete così codardi da non farlo di persona. Giusto? A seconda del vostro budget decidete cosa fare, se andare da Wasabi Sushi o andare dal Paninaro che fa i panini a 3 euro. Oppure se aggiungere alla cena anche il cinema. E andare... Ecco, questa chi è che è l'amorosa che lo chiama. Oppure se aggiungere alla serata anche il cinema. Questo evidentemente dipende dalle risorse, ma non solo dalle risorse, dipende anche da ciò che voi considerate adeguato a raggiungere quello scopo. Ok? Attenzione! Facendo questo tipo di riflessione, noi non solo scardiniamo il concetto di selezione mezzi fini, ma scardiniamo anche il concetto di Homo economicus. Chi è l'Homo economicus? Quali sono le caratteristiche di questo Homo economicus? Lei se le ricorda? Eh, dice che la prima non è il concetto di condizione di economicità. L'Homo economicus non sbaglia mai. L'Homo economicus, di fronte a fini determinati, è in grado di scegliere sempre i mezzi più adeguati, perché dispone di conoscenza perfetta, e quindi nella riflessione sull'Homo economicus, l'errore non è contemplato. Ma, attraverso l'esempio che abbiamo fatto dell'innamoramento, capite bene che l'errore deve essere una categoria ammissibile dell'azione umana. Primo, può darsi che la ragazza di cui vi innamorate non vi fili per niente, e quindi ve ne andate subito via con la coda tra le gambe. Questo è il primo e più evidente segno che siete costretti a rivedere il vostro piano. Imprenditorialmente avete sbagliato qualche cosa. Oppure, andandoci fuori a cena, scoprite che non avete niente da dirvi, che l'intuizione iniziale era in qualche modo sbagliata. Oppure può darsi che questa consapevolezza nasca dopo una relazione di cinque anni, vi siete rotti le scatole, e quindi siete costretti a rivedere quel piano imprenditoriale. Quindi, la revisione è un processo continuo, perché, agendo nel tempo storico, voi acquisite sempre nuova informazione. Quindi, l'informazione perfetta, concepita per la finzione dell'homo economicus, è evidentemente una forzatura sulla realtà. Nessun agente umano dispone di tutti i dati a disposizione. Ma attenzione, e questa è un'altra distinzione con i neoclassici, questo vuol dire che noi siamo irrazionali? No, al contrario, perché nel momento in cui voi mettete in moto un piano, usando dei mezzi, per raggiungere dei fini, che sono dettati dalle aspettative, state evidentemente, evidentemente scegliendo il miglior piano a disposizione, coerentemente con l'informazione di cui avete in mano. Cioè, in questo senso voi siete razionali. Cioè, ex ante, il nostro piano è sempre razionale, perché per le nostre conoscenze è il miglior piano a disposizione. Noi saremo costretti a rivedere il nostro piano o addirittura a rivedere i nostri fini e quindi a rivedere le nostre aspettative solo di fronte all'acquisizione di nuova informazione. Ma l'acquisizione di nuova informazione non è qualcosa di statico, è la conseguenza di un processo dinamico, cioè con la ragazza ci dovete andare fuori se volete scoprire qualcosa, che avviene nel tempo reale. Cioè, in un tempo, come vedremo tra breve, in cui può succedere di tutto. No? Cosa succede se andando fuori a cena con la ragazza fate un incidente? Può succedere. No? Cioè, queste sono cose, adesso, non per essere drammatico, però faccio un esempio molto breve. Io stavo discutendo l'avviamento di un centro di ricerca con l'università in cui lavoro e nel momento della definizione di un budget hanno scoperto che avevo un cancro. Ok? E quindi sono dovuto venire in Italia per operarmi di cancro. È che è andato tutto bene, però questo ha portato una revisione del mio piano e io non sono direttore di quel centro di ricerca perché quel centro di ricerca non è stato ancora creato. Però, grazie a quel tipo di incidente sono qui oggi all'università di Bergamo perché devo passare in Italia un tempo a fare qualche cosa e vengo a spiegarvi queste cose e quindi spero che da domani ci siano un po' più di austriaci in giro per Bergamo. Questa era una cosa che io ho di critici degli austriaci inshallah no ma non si sa mai questo è stato possibile solo attraverso un processo di scoperta che avviene nel tempo. Sapete come io ho conosciuto il professor Lucarelli? Ero in Cina e mi ha scritto un'email dicendo che gli era piaciuta la mia tesi di laurea che avevo scritto 12 anni prima e che quindi voleva fare qualche cosa insieme legato agli argomenti di ricerca della mia tesi di laurea. Evidentemente questo è qualcosa che non era previsto fino al momento prima in cui questa email non era arrivata e quindi se lui non avesse mandato quell'email oggi non sarei qui in mezzo alla malattia un processo di scoperta. Quindi capite la dimensione fondamentale del tempo e la dimensione fondamentale del sorgere di nuove informazioni nel processo di azione umana che si svolge nel tempo e quindi passiamo un po' di tempo a parlare del tempo ok? Nella teoria economica dominante e qui in questa definizione mi rifaccio alle categorie che sono svolte nel libro l'economia del tempo e dell'ignoranza nella teoria economica dominante che avete studiato sui vostri manuali il tempo non è necessariamente negletto però il tempo che incontrate è un tempo newtoniano e mi spiego infatti se ci pensate lo scorrere del tempo nei vostri manuali viene sempre rappresentato sul piano cartesiano giusto? da T1 a T2 a T3 ma qual è il problema di questa rappresentazione del tempo? anzitutto che è un tempo spazializzato cioè il suo passaggio è rappresentato o simboleggiato da movimenti lungo una linea o lungo una curva giusto? e questo tipo di tempo presenta la caratteristica fondamentale dell'omogeneità cioè i diversi momenti temporali non sono altro che punti nello spazio una posizione temporale tra un momento e l'altro potrebbe anche non succedere nulla cioè si tratta di un tempo statico che è una contraddizione in termini come fa il tempo a essere statico? la percezione umana del tempo vi dice già che il tempo implica qualche cosa di dinamico giusto? giusto o no? grazie terzo la continuità matematica cioè il tempo diventa una successione di momenti che possono anche essere diversi T1 T2 T3 ma nessun mutamento può avvenire endogenamente ogni mutamento per la economica dominante deve essere esogeno cioè se non interviene qualche cosa dal di fuori non cambia nulla il sistema economico continua a riprodursi in modo meccanico il famoso caso del flusso circolare e questo era un concetto assolutamente alieno dagli economisti classici come Smith in particolare nonostante gli economisti mainstream si definiscano neoclassici leggetevi un libro molto bello di un economista distante dalle mie visioni ma secondo me molto bravo Paolo Filos Labini ritornare ai classici in cui fa vedere come in fondo una riscoperta di economisti come Adam Smith ci aiuta a capire meglio la dimensione del tempo e la dimensione del mercato e quindi una visione del processo economico come un processo dinamico e se mi permettete un ulteriore attacco alla teoria dominante tutto il paradigma che voi studiate in facoltà è fondamentalmente statico anche quando vi viene detto l'opposto vorrei che qualcuno di voi mi enucleasse bene la definizione di concorrenza perfetta che c'è sul vostro manuale di microeconomia c'è qualche secchione che se la ricorda dai su ve la continuano a ripetere vi fanno il lavaggio del cervello con questa definizione dai lei con gli occhiali con i capelli lunghi definizione di microeconomia vabbè con le parole sue caratteristiche fondamentali sono questa perfetta informazione e i prodotti si tendono a zero prodotti omogenei imprese anche consumatori price takes e appunto come ha detto lei il prodotto è omogeneo in un'industria il prodotto è omogeneo e i profitti tendono a zero e adesso vi vi lancio questa provocazione quindi ci sono tutte una serie di imprese che producono la stessa cosa con una tecnologia data cioè sono tutte uguali ignorate per un momento questa definizione pensate a una partita di calcio una partita di calcio è qualcosa di competitivo per quella che è la vostra percezione di competizione sì giusto cioè due squadre si confrontano per vincere e le due squadre che si confrontano sono tutte uguali cioè hanno 11 giocatori totalmente interscambiabili producono lo stesso calcio gli spettatori sono risultato takers un risultato che evidentemente tenderà a essere sempre zero a zero no però è invece nella realtà è competitiva ed è competitiva perché una squadra è più forte e una squadra può vincere o perché è più forte come team o perché ha più forti individualità o perché ha corrotto l'arbitro questo potrebbe essere un vantaggio competitivo o perché in un qualche modo i giocatori dell'altra squadra avevano fatto festa erano ubriachi o erano sottotono avevano l'influenza qualunque cosa cioè quindi da questo esempio voi capite che la natura della della competizione non sta nell'uguaglianza ma nella differenza cioè quindi quando io leggo su un manuale che un processo è perfettamente competitivo quando i competitor sono tutti uguali mi ribollo il sangue nelle vene perché è una violenza contro il mio senso comune di competizione cioè un imprenditore e io lavoro tra le altre cose come dirigente di una multinazionale belga quindi vi svelo la mia seconda natura la mia esperienza è che la mia azienda può vincere contro un competitor o perché facciamo delle cose migliori o perché siamo più bravi a vendere o perché abbiamo un servizio migliore o perché arriviamo primi eccetera eccetera per una serie di fattori talvolta anche casuali a me è capitato di andare da un cliente perché sono stato l'unico ad accettare di andarci di giorno festivo e i miei competitor non volevano andarci questo vi dimostra che la competizione ha un carattere dinamico e la vittoria si fonda sulla differenza sull'essere in un qualche modo avvantaggiati rispetto agli altri competitors e sicuramente voi non entrate in un mercato per avere dei profitti che tendono a zero giusto? voi avete un profitto proprio in virtù di quella differenza o perché avete un prodotto migliore o perché lo sapete fare in un modo più efficiente o perché avete dei venditori più persuasivi o perché avete un miglior servizio tecnico una migliore assistenza questa sarà la realtà con cui vi confronterete domani quando andrete a lavorare sempre inshallah ed è anche la misura in cui voi potrete ottenere un lavoro invece che un'altra persona in un qualche modo voi siete imprenditori della vostra vita cioè quindi dovrete sapervi vendere meglio di quali dei vostri competitors giusto? e voi sarete in grado di vendervi non perché siete tutti uguali cioè se voi sul mercato del lavoro perfettamente competitivo diciamo io venissi da voi e vi dicessi beh voi siete tutti uguali per me assumere uno o l'altro non fa nessuna differenza come la prendereste? sono un tanto bene non volete essere considerati tutti uguali giusto? quindi questa sta la mia critica che non è solo mia ma di altri economisti verso la visione comune e soprattutto la visione da manuale del concetto di concorrenza perfetta adesso voi avete già fatto l'esame e quindi non avete non dovete più cruciarvi con questo tipo di dubbio però portatevi a casa questa provocazione è più bella è più adeguata è più vera la definizione di concorrenza che c'è nel manuale o in un qualche modo la concorrenza vera perfetta ha a che fare con quello che mi ha detto il docente della Malesia che è venuto oggi pensateci poi sarà a voi decidere un'ultima caratteristica del tempo newtoniano è l'inerzia causale cioè con il fluire del tempo nulla succede non vi è acquisizione di nuova informazione non vi è scoperta non vi è nuova conoscenza che porta le aspettative a cambiare il sistema deve contenere in sé già tutti gli elementi necessari al suo funzionamento l'homo economicus l'homo economicus parte dal punto 0 e arriva al punto 10 senza che nulla scalfisca le sue marmore convinzioni e la sua marmore informazione quindi una concezione si fatta forse può adattarsi alla descrizione dei fenomeni fisici in cui ad un'azione corrisponde è la medesima reazione cioè se io faccio cadere un oggetto con un certo peso quell'oggetto cadrà sempre alla stessa velocità che dipende dalla forza di gravità ma di fronte alla stessa ragazza uomini diversi reagiscono in modo diverso tendenzialmente non tutti si innamorano della stessa persona altrimenti sarebbe un casino giusto? a noi interessa invece quello che Odrisco e Lerizzo definiscono tempo reale il tempo reale è un flusso dinamicamente continuo di nuove esperienze noi non possiamo sperimentare il passaggio del tempo se non come un flusso e nel passaggio del tempo qualcosa deve accadere altrimenti il tempo reale finirà di esistere il vostro fluire del tempo finirà semplicemente il giorno in cui voi morirete giusto? se non credete nella vita eterna e le caratteristiche che il tempo reale presenta sono ovviamente opposte a quelle che abbiamo visto per il tempo newtoniano anzitutto la continuità dinamica il tempo deve essere composto da memoria e da aspettative e quindi la mia azione scatta in seguito a delle aspettative però è chiaro che le mie aspettative sono dettate dalla mia memoria del passato qualche problema là in fondo? in questo posto? se hai qualche domanda la faccio pure a me altrimenti non è importante quindi l'azione presente che è rivolta sempre al futuro cioè noi agiamo oggi per ottenere qualcosa domani ma la nostra azione è per forza di cose basata sull'esperienza che abbiamo acquisito ieri giusto? cioè se uno di voi si è proposto ieri a una ragazza e questa ragazza si è rifiutata uno non torna oggi facendo a quella ragazza la stessa domanda altrimenti sarebbe un idiota giusto? quanto meno se proprio è fissato con quella ragazza tenterà di cambiare strategia giusto? uno non può arrivare oggi ieri e dire buongiorno sono innamorato di te vorresti uscire con me? no grazie sei uno spigato e il giorno dopo andare alla stessa ragazza ciao sono innamorato di te vorresti uscire con me? no scusa sei uno spigato perché infatti quel ragazzo diventa uno spigato a quel punto lì e quindi evidentemente l'esperienza del passato deve essere un bagaglio deve essere un bagaglio che porta alla revisione del piano siete d'accordo su questo? ecco la maglia blu è d'accordo? non è male un'altra caratteristica è l'eterogenità ad ogni momento successivo la percezione che l'individuo ha dei fatti può essere di fatto è differente il passato una volta verificato si diventa memoria e quindi arricchisce il presente influenzando la percezione del futuro se voi andate a vedere un film di un certo regista perché pensate che quel regista sia bravo e il film vi delude probabilmente non andrete a vedere il prossimo film di quel regista quindi la vostra percezione di quel fenomeno è cambiata grazie all'acquisizione di informazione che è avvenuta in seguito a un'azione avvenuta nel tempo giusto ultima caratteristica l'efficacia causale cioè lo scorrere del tempo modifica la conoscenza e quindi il bagaglio informativo ampliando le potenzialità creative dell'azione umana cioè il fatto che acquisiate informazioni nel tempo vi rende anche più esperti e quindi capaci di giudicare meglio alcune situazioni se andate a provocare il più grosso energumeno del vostro quartiere e questo vi prende a sberle l'esperienza acquisita arricchisce il vostro bagaglio informativo probabilmente non lo farete una seconda volta giusto? make sense? yes? no? bene facciamo in inglese il prossimo seminario no? in malese sai a bole sei di chi saggia questa bole ti ho detto potrei farlo potrei farlo solo per un pochino non posso farlo completamente ultimo capitolo l'azione umana quindi adesso che abbiamo definito adesso che abbiamo definito il framework di definizioni soprattutto relative al tempo che ci interessa andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell'azione umana tutto questo ci servirà per arrivare a dimostrare l'impossibilità del socialismo non dimentichiamoci qual era il punto di partenza e il punto dove vogliamo arrivare quindi anzitutto come abbiamo già detto l'azione umana è finalistica cioè voi agite sempre con uno scopo i fini non sono dettati cioè scusate non sono dati i fini sono scoperti imprenditorialmente voi decidete di aprire un'attività economica quando intuite che c'è un bisogno insoddisfatto nel mercato giusto? ma questa individuazione avviene solo nel momento in cui vi impattate con la realtà cioè lo scoprite probabilmente il signore che ha aperto wasabi sushi ha visto che non c'erano altri sushi e ha in un qualche modo intuito che in questo momento il sushi è trend giusto? tutti siamo diventati un po' magneci del sushi e quindi sa che può fare più soldi vendendo sushi che non vendendo i voltini primavera giusto? vi siete mai chiesti come mai tutti i sushi place erano una volta Chinese restaurant e sono gestiti dalle stesse persone? evidentemente hanno scorto un'opportunità di profitto e sono stati bravi che cos'è invece il valore? e qui questa è una cosa molto importante della teoria economica il valore è l'apprezzamento soggettivo che l'attore dà al suo fine cioè voi non avete un solo fine nella vita però evidentemente dovete concentrarvi sui vostri fini su alcuni dei fini e quindi imponete una scala di valore ai vostri fini giusto? qual è il suo fine primario suo? è un fine un po' limitato non crede? è un fine primario non lo so andare a giocare a calcetto adesso ci sono dei ministri che dicono che è molto importante giocare a calcetto vero? io giocavo molto a calcetto però sono dovuto andare a trovare lavoro in Malesia quindi giocavo molto male a calcetto probabilmente sì o con le persone sbagliate che cos'è invece il mezzo? il mezzo è tutto ciò che l'attore ritiene soggettivamente adeguato raggiungere un fine soggettivamente cioè l'individuazione di un mezzo l'adeguatezza l'individuazione ragazze l'individuazione dell'adeguatezza di un mezzo per raggiungere un certo fine è una percezione soggettiva soggetta a revisione cioè voi potete pensare che portare una ragazza a mangiare il sushi sia adeguato a ottenere una relazione stabile con lei però se poi scoprite che è allergica al pesce evidentemente al pesce crudo evidentemente quel mezzo non era adeguato però questo lo potete scoprire solo nel tempo giusto? cos'è l'utilità? l'utilità invece è la valutazione che l'attore dà al mezzo in funzione del valore del fine che egli ritiene che quel mezzo gli permetterà di raggiungere cioè l'utilità ci permette di dare una valutazione sul mezzo sull'adeguatezza del mezzo sul valore del mezzo rispetto al valore del fine che vogliamo ottenere ok? evidentemente se noi decidiamo di investire solo 50 euro scusate quelle non sono solo diciamo solo 10 euro in un appuntamento con una ragazza questo ci dice che il nostro obiettivo stabilire una relazione con quella ragazza nella nostra scala di valori forse non è così importante oppure che siamo molto poveri casi sono due giusto? giusto o no? la ragazza non sarà molto clemente in questo caso è evidente che c'è un legame tra valore e utilità il valore soggettivo che l'attore attribuisce al fine che persegue si proietta sul mezzo che ritiene utile per ottenerlo proprio tramite il concetto di utilità cioè è chiaro che io deciderò di investire più risorse per raggiungere il fine che ritengo più importante pensate a quanto tempo voi investite qui all'università giusto? invece che essere fuori a giocare a calcetto quindi è evidente che voi attribuite al fine laurearsi un'importanza molto alta perché forse investite il 70% del vostro tempo qui giusto? un'altra cosa importante i mezzi debbono essere scarsi per generare una certa azione un mezzo che non è scarso non ha utilità perché è sempre a disposizione quindi in un qualche modo non si pone tra le cose su cui dobbiamo scegliere giusto? anche se noi fossimo estremamente ricchi con un enorme bagaglio di mezzi esiste un mezzo per eccellenza che è scarso per tutti qual è? il tempo bravi il tempo è scarso per tutti abbiamo tutti una giornata di 24 ore ricchi e poveri e come abbiamo già detto i fini e mezzi non sono dati come la teoria economica dominante ci vuol far credere i fini e mezzi sono i risultati della vostra azione imprenditoriale cioè del vostro senso di scoperta nell'azione nel mondo reale e fini e mezzi sono integrati attraverso un piano cioè cos'è che ci permette di implementare mezzi utilizzare mezzi per raggiungere i fini l'integrazione è data da un piano e un piano è sempre un atto di volontà giusto? cioè voi dovete decidere di fare qualcosa per laurearvi la laurea non viene da voi giusto? prima o poi forse si arriverà che ve la portano e vi mandano per posto però per adesso è rimasta ancora una certa serietà nel mondo accademico l'azione umana si sviluppa nel tempo e il tempo con le definizioni che abbiamo dato precedentemente implica naturalmente l'incertezza del futuro cioè il fatto che voi implementiate un piano nel tempo per raggiungere un fine attraverso certi mezzi non implica assolutamente il successo di quel piano come invece è implicato nell'azione dell'uomo economicus il futuro è aperto ad ogni possibilità è incerto per natura quando voi vi proponete una ragazza dovete mettere in conto il fallimento anche i più self confident tra di voi devono in qualche modo ammettere che ci può essere una ragazza che li rifiuta giusto o c'è qualcuno così self confident da dire io posso farsela con tutte no vero quindi qual è il costo di un'azione il costo è il valore soggettivo che l'attore attribuisce ai fini a cui rinuncia quando decide di seguire intraprendere un determinato corso di azione anche questo appare è una valutazione soggettiva cioè nel momento in cui voi decidete di concentrarvi su una ragazza piuttosto che su un'altra o di concentrarvi su una ragazza invece che di venire a lezione o di venire a lezione invece che di concentrarvi su una ragazza evidentemente state attribuendo un costo ai fini a cui rinunciate giusto? e ritenete che il beneficio che potrete ottenere dal fine che volete perseguire è più alto del costo di rinuncia ad altri fini chiaro? il beneficio infatti è il guadagno che si ottiene dall'azione umana e costituisce l'incentivo che spinge o motiva ad agire cioè voi agite sempre nella speranza di ottenere qualche cosa di più di ciò che avevate prima non necessariamente in termini materiali ma in termini generali di soddisfazione questo come ho detto prima l'azione umana è per definizione sempre razionale ex ante ex ante l'attore cerca e seleziona sempre i mezzi più adeguati ritenuti tali per raggiungere un certo scopo ex post voi potete scoprire di aver commesso un errore e l'errore implica che voi siete portati a rivedere o i vostri fini o le vostre aspettative o il vostro piano ma dove avviene tutto questo processo avviene in un posto che in termini generali noi possiamo chiamare mercato la realtà è un grande mercato un mercato in cui sono in gioco le vostre vite in termini molto generali ma questo è il posto in cui l'informazione A viene generata B viene scambiata e quindi il processo di revisione di aspettative fini mezzi e piani avviene il mercato non è necessariamente un luogo fisico il mercato è la realtà tutta la realtà è mercato il mercato quindi è un processo di scoperta la cui funzione fondamentale è il permettere la generazione la scoperta e lo scambio di informazione chiaro? questa è la funzione principale del mercato e presto vedremo perché questa funzione è molto importante l'informazione o la conoscenza che è importante per l'esercizio della funzione imprenditoriale cioè di questo processo di scoperta che è l'azione umana ha delle caratteristiche precise cioè la conoscenza anzitutto è sempre soggettiva di tipo pratico e non scientifico gli imprenditori non sono degli scienziati ma acquisiscono sempre una conoscenza di tipo pratico è l'esperienza pratica che ci dice che non ci sono altri sushi in giro la conoscenza è esclusiva è dispersa nella mente di tutti gli uomini è creata dal niente mediante l'esercizio della funzione imprenditoriale ed è trasmissibile in modo spesso incosciente attraverso processi sociali estremamente complessi il cui studio dovrebbe costituire l'oggetto di indagine della scienza economica se non esistesse l'homo economicus quindi che la conoscenza è pratica vuol dire che essa riguarda tutto ciò che non può essere rappresentato in modo formale ma che il soggetto acquisisce o apprende attraverso la pratica cioè attraverso l'azione umana in diversi contesti cioè il processo di innamoramento non può essere messo come y uguale f di x non funziona funziona in un modo molto diverso in un modo non formale ma che guarda caso fa sì che la maggior parte degli esseri viventi si accoppi giusto pur non rispondendo a un processo di formalizzazione matematica o come si usava a dire una volta Parigi viene sfamata cioè anche se nulla si produce a Parigi in un qualche modo Parigi ottiene le brioche o per legarmi a voi tutte le mattine voi trovate la colazione sul vostro tavolo oppure al bar senza che a qualcuno ne importi veramente qualcosa giusto a chi produce il grano in porta della vostra colazione no giusto a chi produce lo zucchero in porta della vostra colazione no assolutamente eppure voi avete qualcosa che contiene grano e zucchero sul vostro tavolo ogni mattina questo è grazie a un processo di scambio di conoscenze pratiche cosa vuol dire poi che la conoscenza è esclusiva e dispersa che ogni uomo possiede solo alcuni bit dell'informazione che si genera e si trasmette globalmente a livello sociale ma paradossalmente solo lui possiede questi bit inoltre la conoscenza è tacita e non articolabile cioè l'attore sa come fare o effettuare determinate azioni ma non sa quali siano gli elementi o parti di ciò che sta facendo cioè quando voi mettete in moto un piano per conquistare una ragazza non lo fate in modo formale cioè non vi sedete giù al tavolino allora la mia aspettativa è trovare una moglie per fare questo il mio fine è di conquistare quella ragazza ho a disposizione questi mezzi e adesso faccio un piano che implemento per non avviene così se qualcuno fa così è da intermare subito siete d'accordo? lei ride lei non fa così quando vuole conquistare un ragazzo in discoteca giusto? non porta via carta e penna no per fortuna quindi vuol dire che lei è normale poi la conoscenza è tacita e non articolabile cioè l'attore no questo scusate abbiamo appena detto in ultima analisi l'atto imprenditoriale implica la creazione ex nihilo cioè dal niente di una nuova informazione questa creazione ha luogo nella mente di ogni persona cioè nel momento in cui voi andate fuori con una ragazza da cui vi aspettate una conversazione travolgente e invece vi scoprite che è estremamente noiosa questo è un processo di creazione di informazione dal niente che avviene nella vostra mente e che poi forse comunicherete in modo spontaneo o in modo non spontaneo non cosciente cioè il fatto che voi non abbiate un secondo appuntamento con questa ragazza può dire ad altre persone alcune cose a. quella ragazza non vale la pena b. non vi siete piaciuti c. hai fatto delle cose sbagliate tutta una serie di intuizioni che implicano quella cosa meravigliosa che è chiamata processo ermeneutico cioè le informazioni contenute nei fatti implicano interpretazione cioè il fatto che due persone rompano una relazione può portare in individui diversi a diverse conclusioni quindi di fronte al medesimo fatto oggettivo le conseguenze in attori diversi possono essere assolutamente diverse e qui di nuovo la fallaccia dell'homo economicus se noi fossimo homo economicus di fronte allo stesso fatto reagiremo tutti nello stesso modo ma siccome noi non siamo homo economicus di fronte a una relazione che finisce ci può essere un ragazzo che dice ma allora ci provo io con quella lì ci può essere un altro ragazzo che dice ma forse allora quella ragazza era una palla quel ragazzo lì era talmente bravo che se hanno rotto vuol dire che quella ragazza era tremenda o ci può essere un altro che dice ma guarda quei due lì sono proprio degli sfigati stavano tanto bene assieme oppure qualcuno che dice ma forse finalmente hanno scoperto che si sta meglio da soli questo si chiama processo ermeneutico e capite che il tipo di reazione di fronte al medesimo fatto oggettivo il tipo di reazione soggettiva determina corsi di azione per il futuro che sono completamente diversi quindi di nuovo futuro incerto non determinabili a priori la realtà meravigliosa per questo quindi la creazione imprenditoriale di informazione implica una trasmissione di tale informazione al mercato che è quello che abbiamo appena detto nell'ambito di questa trasmissione di informazione un ruolo fondamentale è giocato da alcune istituzioni cioè il processo soggettivo di creazione di informazione è plasmato oggettivamente da alcuni segnali alcuni segnali quali per esempio le istituzioni il semaforo per esempio è un'istituzione condivisa noi possiamo evitare incidenti in un qualche modo perché esiste un accordo condiviso secondo cui a rosso ci si ferma giusto? ma il segnale più importante è rappresentato dai prezzi il prezzo è la sintesi oggettiva di una serie di valutazioni soggettive quanto costa un iPhone oggi? io non lo so quanto? 800 euro possiamo dirlo cosa ci dice il fatto che un iPhone costi 800 euro? ci dice che nel mercato c'è un numero sufficiente di persone disposte a spendere quella a montare di denaro e quindi che reputa l'iPhone così importante da generare per Apple un profitto ritenuto adeguato giusto? questa è un'informazione molto importante che ci dice che se voi volete comprarlo in un qualche modo dovete essere disposti a spendere quei soldi e che se non siete disposti per una serie di motivi o perché valutate l'iPhone non così importante o perché semplicemente non avete 800 euro da spendere dovete rividere i vostri piani e quindi comprare per esempio un vecchio Blackberry giusto? questo è molto importante perché questa funzione dei prezzi permette attraverso un processo di apprendimento un altro processo meraviglioso che avviene nel mercato che è il processo di coordinamento che è quello che Adam Smith aveva in mente quando parlava della mano invisibile cioè Adam Smith quando parlava della mano invisibile non aveva assolutamente in mente niente che riguardasse l'ottimo paretiano l'equilibrio generale quindi tutte queste cose molto formali aveva semplicemente in mente l'idea che le azioni intenzionali producono esiti inintenzionali e questi esiti riguardano il coordinamento dell'azione individuale questo è molto importante e che quindi il risultato che si può generare attraverso questo processo di coordinamento spontaneo che avviene nel mercato per cui voi tutte le mattine ottenete la brioche sul vostro tavolo anche se non ci sia una volontà pianificatrice dietro che ritenga importante che voi abbiate la brioche tutte le mattine ma ciò avviene è più efficiente non necessariamente in senso perfetto ma comunque è più efficiente di ogni volontà pianificatrice e questo avviene proprio attraverso il processo di scambio di informazioni che è tipico del mercato e che è veicolato da uno strumento fondamentale chiamato prezzi e quindi arriviamo all'ultima parte dopo lascerò un po' di tempo perché mi piacerebbe che voi avesse delle domande dopo essere stati stimolati così vivacemente detto tutto quello che abbiamo detto finora perché possiamo dire che il socialismo e comunque l'intervento pubblico è intrensicamente incoerente o ontologicamente incoerente il socialismo è negazione dell'imprenditorialità pensate all'informazione con le caratteristiche con cui l'abbiamo descritta prima è logicamente impossibile che l'informazione così concepita sia trasmissibile ad un unico organo direttivo andiamo a rivedere le caratteristiche dell'informazione pratica non scientifica esclusiva cioè presente solo nella mente di alcuni individui ogni individuo ha solo alcuni bit di informazione ma paradossalmente ce li ha solo lui è tacita e non articolabile è creata nello svolgimento dell'azione nel tempo storico nel mondo reale ed è trasmissibile attraverso processi socialmente complessi come può un'informazione con queste sei caratteristiche essere di colpo trasmissibile ad un organo di pianificazione evidentemente non è possibile e anche se ciò fosse nel momento in cui questa informazione è trasmessa all'organo direttivo è già cambiata perché l'informazione è scoperta e creata e similo in ogni momento diverso del tempo storico grazie l'azione individuale per cui è evidentemente che nel momento in cui questa informazione per puro miracolo giunge al pianificatore è già vecchia e quindi inservibile per una pianificazione efficiente ci siete siete sufficientemente sconvolti grazie quindi difficilmente si può trasmettere ad un organo di direzione l'informazione o la conoscenza che non è ancora stata creata ma che continuamente sorge come frutto del processo sociale di interazione e di scoperta finché questo non venga aggredito quindi il problema del socialismo non può essere risolto attraverso un sistema di equazioni perché quando anche quel sistema di equazioni venisse creato sarebbe vecchio inservibile e quindi inefficiente il socialismo è dunque impossibile a causa delle caratteristiche intrinseche alle informazioni che permettono un calcolo economico razionale perché il calcolo economico può essere razionale abbiamo parlato di benefici di valore di costo di utilità cos'è che permette a queste categorie che vi ho enucleato come caratteristiche soggettive di permettere un calcolo economico razionale cioè oggettivo i prezzi cioè il fatto che le vostre valutazioni possono essere espresse attraverso dei parametri univoci che però non esistono senza l'interazione soggettiva cioè il valore è sempre soggettivo io ho speso 800 euro per comprare questo telefono meraviglioso secondo me costretto da mia moglie in realtà e io ho ritenuto possibile spendare una valutazione di 800 euro altri non lo faranno i prezzi sono sì oggettivi ma sono sempre il frutto di valutazioni soggettive tant'è che se voi fate un ristorante di lusso che vende una bolognese a 40 euro in un quartiere da working class chiudete perché il prezzo che voi avete arbitrariamente imposto alla vostra bolognese non tiene conto delle valutazioni soggettive del pubblico potenziale nella vostra area di appartenenza e quindi il prezzo non è mai determinato da valutazioni a prioristiche è sempre il frutto dello scambio di informazioni cioè di valutazioni soggettive che avviene nel mercato e che sono continuamente create negando questa libertà la libertà imprenditoriale il socialismo rende impossibile sorgere dei prezzi certo l'autorità governativa può inventarsi dei numerari cioè dei valori che stanno un po' lì e che ritiene siano razionali ma non sono dei prezzi e quindi mancando il meccanismo fondamentale per la creazione dei prezzi cioè il mercato libero è impossibile un calcolo economico razionale e quindi il socialismo è determinato è destinato a fallire quindi il problema primo del socialismo non sta nei problemi di attuazione pratica che si oppone e che abbiamo visto ieri vi è a monte una contraddizione logica che lo rende incoerente prima ancora che il problema pratico si ponga negando o limitando l'imprenditorialità esso nega i presupposti stessi per il sorgere degli elementi che renderebbero possibili le valutazioni economiche propriamente intese e dunque la possibilità di valutare se un'azione economica ha successo o no il socialismo dunque come categoria logica incoerente è destinato al collasso e Mises lo aveva previsto nel 1920 grazie sono una domanda da parte mia ora io però credo che non vuoi fare il difenditore del socialismo reale dell'unione sovrappina però in quel quadro il punto di partenza è che i fini vengono in realtà stabiliti da comitato e essendo i fini stabiliti dal comitato il punto è che i comportamenti dei soggetti che sono governati dal comitato devono essere in qualche modo tutti quanti coerenti con quei fini quindi è la il vero problema di questo quadro è una stanza di imprenditorialità che però potrebbe laddove il rapporto tra il governato e il governante è estremamente rigido ed estremamente capace a costringere il governato a tenere esattamente quei comportamenti coerenti con quei fini l'attenza di imprenditorialità c'è in questo nel fatto che c'è una limitazione della libertà o ancora una negazione non c'è una negazione è ancora più sottile affinché quei fini imporsi da un comitato siano condivisi tu hai bisogno fin da da bambino di un apparato educativo che crea una consapevolezza distorta nella parte degli individui che quel fine è stabilito dall'organo centrale sia effettivamente quello l'unico immaginario possibile di quel tipo di popolazione messa in questi termini capisci anche perché è vero che Nietzsche mette in luce dei difetti che posso anche condivere entro certi limiti nel 1920 ma a questo punto il vero mistero come ha fatto dal 1917 al 1989 comunque diciamo l'89 che ha il muro di Berlino nel 1991 l'Unione Sovietica gli elementi critici cominciano già prima già alla fine degli anni 70 dal punto di vista del rispallimento dei piani finanziari il punto è che però è durato così tanto tempo allora ti rispondo alla prima domanda con una affermazione molto rapida che piacerà agli studenti mercato nero cioè una delle caratteristiche dei paesi ad alto livello di pianificazione è sempre l'emergere di un mercato nero cioè per quanto l'organo di pianificazione si sforzi di indirizzare le finalità individuali la nostra libertà è così soggettiva così rivoluzionaria e così intrinsecamente libera che ci sono certe cose che noi vogliamo assolutamente e quindi in tutti i paesi ad alto controllo governativo sorgono tantissime sacche di mercato nero e quindi è chiaro che per far funzionare quel sistema devi arrivare a un livello di coercizione tale che implica il campo di sterminio cioè l'unico modo in cui tu puoi veramente controllare la libertà cioè soggiogare le finalità individuali a un generale fine sociale un fine dettato dall'organo direttivo è evidente che sei costretto a un tipo di controllo e di violenza che evidentemente va oltre la negazione delle libertà economiche e arriva alla violazione totale dei diritti umani primo sul lungo funzionamento dell'Unione Sovietica io credo che sia dovuto a un parziale tentativo di adattamento dell'Unione Sovietica a logiche di mercato cioè l'Unione Sovietica tentava di vendere ad esempio materie prime tentava di vendere alcuni prodotti tentava doveva comunque porsi in un sistema di relazioni internazionali che avevano a che fare con il libero mercato per cui per esempio tutto ciò che importava lo importava con dei prezzi che erano generati dal mercato e quindi in un qualche modo era costretta per le proprie valutazioni nell'ambito delle industrie nazionalizzate a sottoporre le proprie valutazioni ad una serie di valutazioni che erano venute altrove e determinate con criteri diversi e quindi questo le ha permesso secondo me in un qualche modo di vivere più a lungo di quanto non sarebbe stato possibile se fosse stato un sistema al 100% veramente intersocialista sarebbe crollato molto prima ma dovendo per forza confrontarsi con il mondo esterno questo la portava a contatto con delle logiche di mercato tant'è che tu vedi l'esempio della Cina in cui si sono tentati degli esperimenti di pianificazione veramente totali come i piani in cui Mao costrille il Great Leap Forward il grande balzo in avanti in cui Mao costrinse milioni di persone ad abbandonare i campi per andare avanti a lavorare nelle fabbriche questo portò alla più grande carestia della storia dell'umanità e quindi al più grande numero di morti per fame per fame della storia dell'umanità quindi magari la Cina comunista non era crollata però quando muoiono adesso non mi ricordo il dato esatto però supponiamo 10 milioni di persone per fame è chiaro che tu hai già fallito qualcuno dal pubblico guarda adesso è molto forte certo molto forte mi piace un sacco infatti non avendo incarichi ufficiali nell'accademia italiana io posso permettermi di essere un po' estremista non avendo il problema di dover fare carriera nell'università italiana ed essendo stato stromesso dal sistema dell'università italiana abbondantemente in anticipo posso permettermi di essere un po' più libero nelle mie affermazioni un po' più radicale di quanto il politicamente corretto imporrebbe e quindi questo è il motivo per cui mi sono concesso anche un livello di dialogo con voi un po' frizzante se vogliamo spero che la cosa non vi abbia disturbato e l'altra cosa che voglio chiederti è come fai all'interno di questo quadro a considerare sempre e comunque i prezzi come perfetti valori di simplici delle informazioni disponibili qui abbiamo parlato un po' di questa cosa l'ultima volta che ci siamo visti ma quando si si parla del concetto di equilibrio e quindi di deviazioni dell'equilibrio è chiaro che allora devi avere in mente un equilibrio un qualcosa a cui riferirti cioè per dichiarare che il mercato fallisce devi avere già prioristicamente in mente che cosa vuol dire che il mercato ha successo e questo evidentemente implica un giudizio di valore a priori la stessa cosa vale per i prezzi cosa vuol dire che un prezzo è una sintesi perfetta io non credo che si possa individuare un sistema di perfezione io credo che un prezzo rappresenti un tentativo di coordinamento e infatti io essendo un estremista credo che il market clearing non esista e sia uno strumento purtroppo anche gli austriaci ci hanno messo un po' di tempo a liberarsi di questo concetto cioè noi abbiamo all'inizio Hayek che comunque dice l'equilibrio lo dobbiamo tenere là come termine di paragone cioè è come diciamo se esistesse un bellissimo caravaggio e tutto il resto della pittura dovesse in un qualche modo avere fare i conti con quel caravaggio poi nel tempo si è passato attraverso Kirzner che dice l'azione imprenditoriale è un'azione che tende al market clearing ma non lo raggiunge mai e poi si arriva al mio favore Lachman influenzato da Schackel il concetto di società in cui i profitti si azzerassero ok mancherebbe l'incentivo stesso a muoversi invece la nostra stessa natura umana implica che noi individuiamo sempre nuovi fini pensate a voi cioè adesso per esempio lei in maglia blu qual è il suo lavoro qualche lavoro vorrebbe fare leggo si 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 immagina cosa che le piacerebbe da matti fare la carriera universitaria e qui è chiaro che le auguro con tutto il mio cuore casomai mi scriva l'aiuto a trovare un posto in Malesia è un po' più facile nel momento stesso in cui lei diventasse una ricercatrice è evidente che poi qualcos'altro succederebbe nella sua vita che la porterebbe a muovere la sua azione imprenditoriale verso qualcos'altro vorrebbe trovare un marito vorrebbe trovare dei figli vorrebbe passare la ricercatrice a professore associato poi professore ordinario poi vorrebbe pubblicare su una rivista prestigiosa scrivere un bel libro che rivoluzioni la scienza economica cioè siccome ontologicamente l'uomo vuole raggiungere la felicità e tutto ciò che raggiungiamo in terra è un'approssimazione della felicità noi non siamo mai contenti e quindi la caratteristica base della natura imprenditoriale è non fermarsi mai quindi definire una situazione di market clearing nella mia visione perde significato nel senso che noi ci muoviamo sempre abbiamo sempre obiettivi nuovi e questo porta continuamente a a relazionarci col mercato e far cambiare il mercato e quindi la definizione di società caridoscopica rispetto al quadro dei problemi di politica economica ieri hai molto bene descritto il modo in cui la politica fiscale viene considerata efficace sotto questo punto di vista che non è riconducibile al monetarismo neanche vedranno dopo la teoria della stessa federazione è rimasto in sospeso un tema che poi asconterai che è il ruolo delle istituzioni monetarie ora in questo quadro proprio perché non possiamo aspirare ad un livello dei prezzi che si è dato e fissato attraverso una regola certa noi non possiamo neanche immaginare che il ruolo della banca centrale sia quello di come dire controllare il tasso di crescita del livello dei prezzi posso dirlo? posso dire mi hai messo e quindi è chiaro che la naturale conseguenza di una visione tale è l'abolizione delle banche centrali e quindi come vedremo nell'ultimo seminario lasciare che il tasso di interesse che paradossalmente anche nei paesi più liberisti pur essendo un prezzo è definito da un'autorità centrale venga finalmente lasciato libero di essere scoperto come prezzo nel mercato e quindi una libera competizione sull'emissione di valuta sull'emissione di moneta e quindi sulla creazione del tasso di interesse come misura delle preferenze intertemporali ma questo è un tema che sarà profondamente sviscerato nell'ultimo seminario che se volete faremo in inglese l'11 aprile spero che tornerete tutti ripeto se qualcuno poi il professor Lucarelli metterà online le slide c'è a disposizione anche la registrazione per chi la volesse e sulle slide c'è la mia email se qualcuno volesse approfondire se lei andando avanti con la ricerca volesse approfondire questi temi sentitevi liberi di contattarmi sarà un piacere darvi una mano se volete fare una tesina o leggere qualche cosa in più contattatemi pure ok grazie buon appetito grazie 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 grazie